Il Ministero dell'Economia smentisce, ma i rumors sull'ingresso di cassa depositi e prestiti in autostrade per l'Italia continuano. Potrebbe essere questo l'asso della maniga del governo che vuole dare una svolta alla gestione delle autostrade dopo il crollo del ponte di Genova. Il CDA di autostrade ha ribadito l'offerta di 500 milioni, poca roba per il Premier Conte che ha chiesto almeno quattro volte di più. I vigili del fuoco stanno prelevando i campioni utili alla procura per ricostruire le fasi del crollo, mentre continuano a monitorare i monconi del ponte. La viabilità è il nodo cruciale. Tra poco i binari arriveranno fino al porto di Genova per far passare le merci sulle rotaie, evitando quindi il trasporto su strada. Da lunedì viene riaperta anche la linea ferroviaria Genova-Milano. Intanto continuano le consegne delle case agli sfollati. Il governatore Toti ha promesso di sistemare tutti entro due mesi.